Meno di una settimana alla gong del calcio mercato invernali con le pugliesi e il Potenza particolarmente attive in queste ultime ore. Resta caldissimo l'asse tra Bari e Potenza sul passaggio sempre più probabile del centroavanti Pietro Cianci in bianco-rosso. Cianci, protagonista in rosso-blu in questa prima parte della stagione con 10 gol realizzati, era stato a un passo dai bianco-rossi già nella precedente finestra di mercato in estate. Per il classe 96 di proprietà del Teramo si tratterebbe di un ritorno a casa. Cianci infatti è cresciuto tra le strade di Bari Vecchia e l'approdo in bianco-rosso sarebbe per lui un sogno che si realizza. Sempre su sponda bianco-rosso è in fase di definizione anche l'accessione di Adriano Montalto alla regina. L'attaccante era stato ingaggiato dal Bari in estate ma la sua avventura è già ai titoli di coda. In casa Monopoli il giovane centrocampista Salvatore Rimoli è passato al Nardò. Tanti colpi messi a segno dai biancoverdi in questa sessione, dall'esperto centrocampista Iachimoschi all'attaccante ex Pescara Bunino in gol all'esordio con i Gabbiani. Il Potenza, in vista della partenza di Cianci, si sta muovendo per trovare una nuova punta in grado di sostituire il centroavanti barese. Il rosso-blu vorrebbero chiudere per Michele Volpe. Sul bomber ex Viterbese non manca però la concorrenza e non sarà facile per i Lucani chiudere questa trattativa. In attesa di nuove mosse sul mercato, la Virtus Francavilla si gode l'acquisto delle ultime ore di Andrea Dorante dal Parma Calcio. L'attaccante classe 2000 è un prodotto del vivaio dell'Inter con cui ha vinto anche un campionato Under-17. Restano vigili in questi ultimi giorni di mercato anche Biscegli e Foggia. La sessione invernale ha regalato inerazzurri tra gli altri l'ex Bari Romizzi. I satanelli invece hanno completato pochi movimenti di rilievo muovendosi di più sul fronte svincolati.